... Adottiamo queste tre ricolette che io dal 94 sto dicendo, e non solo io, ma lo diciamo tutti quanti, noi del pool umani puliti dal 94. I condannati non devono essere candidati, i rinviati a giudizio, quelli sotto processo, non devono assumere incarico di governo locale o centrale, né assessore né ministri, gli imprenditori che si macchino di reati contro la pubblica amministrazione, falsi bilanci, leciti finanziamenti dei partiti e evasione fiscale, non devono poter gareggiare, partecipare alle gare di acquisti, di forniture o di lavori o opere nei confronti della pubblica amministrazione. Una dichiarazione riportata dal Corriere della Sera, nella querelle su un precedente fatto che era stato sepolto e quasi dimenticato, cioè la vendita di alcune azioni, vidi quelle carte, erano da denuncia, l'ex PM, atti anomali, bisognava però trovare la mazzetta, anche D'Ambrosio suggerì il ricorso ai magistrati. Cosa racconta Di Pietro? Ce lo dice lui stesso, consigliò al suo amico Gabriele Albertini di rivolgersi ai PM per una cessione sospetta. Le quote in sé erano un indizio, il problema di fondo è che adesso ci sono degli imprenditori che dicono qualcosa in più, dicono che sono state pagate le tangenti, quindi è bene che l'inchiesta si faccia. Io stesso consigliai a Albertini di rivolgersi alla magistratura. Ingegnerizzazione della corruzione, io ne sto parlando da anni e che credo se vada... Andate su internet e vedete ingegnerizzazione della tangente, parla di corruzione è già troppo difficile. Coniamo alcuni termini per spiegare dei concetti che non erano previsti dal codice penale. Quella della ingegnerizzazione della tangente è uno degli ultimi tempi, termini che è stato coniato proprio per indicare questo sistema di utilizzare mezzi apparentemente leciti per raggiungere i fini illeciti. L'ingegnerizzazione qual è? Che non lo dai più neanche più in relazione a quell'appalto, lo dai a quel sistema, come diceva Zullo prima, al sistema delle cooperative, al sistema dei miglioristi, al sistema della categoria di imprenditori, eccetera, eccetera. Dopodiché quel sistema ripartisce e spartisce. Albertini ha semplicemente segnalato quel che stava scritto su tutti i giornali. Perché i magistrati hanno scoperto oggi qualcosa di diverso e di penalmente rilevante e importante, cioè vale a dire che ci siano state delle transazioni finanziarie in relazione a questo caso. Mi pare che la messa a disposizione della giustizia sia un atto positivo. Io quel che non condivido non è che qualcuno debba essere o non debba essere indagato, ma che qualcuno, profittando del proprio ruolo e della propria posizione, cerca l'impunità. È più facile dimettersi se sei innocente che se sei colpevole. Ma io ci sono passato, dopo 12 minuti, ero ministro la prima volta, mi sono dimesso dopo 12 minuti quando sono stato messo sotto indagine. Perché se sei colpevole sei portato a cercare, come si dice, a buttarla in politica. Invece uno che è innocente vuole correre dal suo giudice. Ha apprezzato Penati che non è parlamentare Penati, diciamo subito, a differenza di tanti che se ne stanno in Parlamento, nonostante il provvedimento di cattura in corso. Modificare, a mio avviso, il reato di corruzione e dire che risponde di quel reato qualsiasi persona che nella sua funzione prende i soldi indipendentemente dal fatto che abbia un comportamento o abbia commesso un atto. Se non facciamo una regola per cui l'imprenditore che usa questi scorciatoi non deve poter più accedere alle commesse e ai contratti con la pubblica amministrazione, ce li ritroviamo tutti. Non so se avete visto, ma alcuni di quegli imprenditori che fanno parte anche di questa storia, io li avevo già arrestati. Lei è stato il primo a chiederne le dimissioni e la razione di Tedesco è stata furibonda. Nel caso Tedesco io eravviso due responsabilità. Una responsabilità politica del Partito Democratico, cioè tu l'hai mandato lì perché è bravo a fare il parlamentare, l'hai mandato lì per come salva condotto, per chi sa che cosa può succedere. Per quanto riguarda il comportamento di Tedesco, è stata una furbata il suo comportamento, perché prima cerca una captazio benevolenza dicendo date il permesso a farmi arrestare. Beh, voglio dire, allora perché non ti dimette e non ti vai far restare da solo? Primo. In secondo luogo, nel momento in cui non lo arrestano, dici beh, allora resto in Parlamento. Allora tu l'hai fatto apposta per fare il furbo. Quello che diceva di Pietro su Tedesco prima, il passaggio da assessore al Senato è verissimo. Hanno giocato tutti di sponda? Noi abbiamo richiesto fino all'ultimo minuto che si facesse il vosso palese e non l'hanno fatto, primo luogo. In secondo luogo, permettetemi, io quando nei confronti di una persona c'è un provvedimento restrittivo, sulla, diciamo così, sulla solidità di quel provvedimento decidono i magistrati, non decide il Parlamento. Questa idea che siccome uno è parlamentare può avere un trattamento diverso rispetto agli altri comuni cittadini, io lo rifiuto e lo ripudio. Quel che io sto dicendo, e che contesto, il fatto che il Parlamento si mette a giudicare se ci sono o non ci sono elementi di colpevolezza, e questo va dal Tribunale della Libertà, il Parlamento deve giudicare soltanto se c'è un fumus persecuzionis, e se non riesce a dimostrarlo deve consegnare il parlamentare alla giustizia, perché è uguale a tutti gli altri, altrimenti questo Parlamento diventa complice e criminale. Il ministro Romano, lei ha qualcosa da dirgli in particolare? A lui non ho nulla da dire. Io credo che non abbia la legittimità morale un governo, un Presidente del Consiglio che nomina ministro, e lui che accetta di fare il ministro, quando è sotto processo, ancora sotto processo per i reati di Pietro.